buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo video come avete già visto dal titolo oggi entreremo più nello specifico riguardo all'applicazione di Tinkware per quanto riguarda il sistema di video sorveglianza io ora mi trovo qua sul mio camper un puzzle Twin Plus del 2021 molto probabilmente avete visto il video di installazione dai ragazzi di Camper Tools anzi se ve lo siete persi ve lo lascio qua sopra nelle schede o comunque lo trovate nella playlist del canale come dicevo oggi entreremo più nello specifico per quanto riguarda appunto applicazioni di Tinkware da remoto dal cellulare o comunque anche da tablet anche perché per quelli di voi che hanno visto lo scorso video avevamo già appunto spiegato che tutto questo kit di video sorveglianza lo potete controllare da remoto sia per quanto riguarda il sistema LTE e per quanto riguarda invece il wifi quando vi trovate all'interno del vostro mezzo o comunque nel raggio d'azione del wifi della Dashcam T700 che appunto è quella che abbiamo montato andremo a vedere nello specifico le funzioni riguardanti appunto l'applicazione anzi le applicazioni perché vi anticipo sono due una per quanto riguarda l'LTE e una per quanto riguarda il wifi anche perché grazie a queste due applicazioni voi riuscite ad avere un controllo a 360 gradi sulle vostre telecamere installate io mi sono munito già del tablet così riuscite a vederlo in maniera più ottimale a breve vedrete qua sullo schermo la registrazione così almeno vedrete quello che vedo anch'io tramite il tablet come potete vedere alla mia sinistra alla mia destra trovate l'interfaccia la pagina iniziale delle due applicazioni da una parte appunto troveremo l'applicazione per quanto riguarda l'LTE quindi da remoto invece dall'altra parte troveremo l'applicazione per quanto riguarda il wifi perché come vi dicevo prima si potete connettervi tramite wifi generato dalla Dashcam T700 in questione che praticamente è la Dashcam principale e potete vedere tutto quello che succede tramite le telecamere senza utilizzare o consumare comunque la connessione LTE ok io partirei dall'applicazione per quanto riguarda il remoto in alto a sinistra come potete vedere abbiamo una campanella che al tocco praticamente ci apre tutta una serie di notifiche del corso del tempo che sono state registrate quindi le potete trovare lì tutti gli avvisi in tempo reale tutte anche le notifiche vecchie vengono registrate con data e anche ora e posizione geografica appunto tramite gps invece ritornando nella pagina principale in alto a destra trovate un ingranaggio che al tocco vi apre la pagina delle impostazioni al che troveremo informazioni di abbonamento quindi l'email con la quale voi vi siete registrati se ve lo siete persi nello scorso video il sistema di sorveglianza della tinker viene fornito già in dotazione con una scheda sim alla quale voi dovete effettuare un abbonamento di tre euro al mese che vi permetterà appunto di controllare il tutto da remote con la connessione lte subito dopo c'è un'altra finestra con avvisi ed evento e appunto vi dice notice ed eventi tutti gli eventi registrati tornando invece indietro gestione dashcam un contatto registrati che appunto è la vostra dashcam in questione invia notifiche di emergenza potete flegarlo o toglierlo a vostro piacimento mio tragitto potete selezionarlo oppure toglierlo questa opzione praticamente vi consente di registrare appunto il vostro tragitto con tutte le notifiche del caso notifica in uso aprendo questa finestra qua potete appunto scegliere a vostro piacimento quali notifiche riceverle se alcune se tutti se nessuna l'unità di misura chilometri e gradi perché ovviamente noi al momento ci troviamo in italia quindi usiamo i chilometri e i gradi del nostro paese versione dell'applicazione appunto in questo caso la versione più recente è già in uso qui potete aggiornare l'applicazione se appunto ci saranno degli aggiornamenti termini di servizio fornitore di servizi licenza open source eccetera tornando invece indietro trovate appunto t700 che è il modello della dashcam in questione live e off perché da remoto potete spegnerla non potete accenderla ma potete spegnerla se appunto non vi interessa live vi fa vedere appunto le telecamere cosa stanno vedendo al momento invece la finestra sotto con la macchina in questione vero l'applicazione segna la macchina noi l'abbiamo installata su un van ma questo poco importa vi farà vedere lo stato in questo caso è spenta a sinistra a destra troverete la batteria con il voltaggio perché si vi dirà anche il voltaggio della vostra batteria motore in questione i giorni trascorsi o le ore trascorse del parcheggio e invece l'icona della macchinina vi aprirà la pagina google adesso non mi connetto vi faccio vedere poi dopo nell'applicazione con il wifi dove appunto parcheggiata la macchina sotto vi dirà in questo caso smate velate perché noi ci troviamo lì 6 gradi e sotto vedete mio tragitto perché se vi ricordate bene prima vi ho fatto vedere che potevate fleggare o no l'opzione mio tragitto e vi farà vedere tutti i tragitti che voi avete fatto appunto nel nel corso del tempo vi segnerà appunto proprio tutto un discorso gps con orario e ora e potete cliccare sotto ogni tragitto su dettagli e vi farà vedere proprio il dettaglio personalizzato la cosa buona che ho potuto constatare durante questi mesi di utilizzo è che oltre al dettaglio della tratta diciamo vi dirà anche magari se durante il tragitto ci sono state delle accelerazioni brusche delle frenate brusche questo perché perché servirà anche proprio essendo una dashcam registra tutto anche perché nel momento che succede qualcosa di strano secondo lei vi salva la registrazione pochi secondi prima dell'impatto se dovesse succedere appunto dell'incidente la cosa è ottima perché appunto la dashcam nasce per questo ecco quindi troverete troverete tutto è un piccolo appunto la ritengo molto dettagliata questa applicazione qua appunto perché la sto utilizzando da mesi mi sono riservato questi mesi qua prima di fare il video appunto perché volevo avere una visione più o meno a 360 gradi per quanto riguarda l'applicazione e devo dire che appunto è molto dettagliata ritorniamo nella pagina principale e bene o male sono queste le cose che potete fare con l'applicazione da remoto adesso passiamo all'applicazione da wifi dopo essere andati a cliccare sulla dashcam il simbolino del wifi e avendolo acceso siamo riusciti a collegarci col nostro tablet o comunque anche smartphone andiamo a vedere l'applicazione wifi che leggermente diversa come si va ad utilizzare come potete vedere questa è la pagina principale adesso appunto mi dice tinker t700 dashcam connessa in alto a sinistra potete trovare impostazioni del wifi invece in alto a destra disconnetti perché appunto si può andare a disconnettere in basso a sinistra ci sono impostazioni della dashcam perché questo cliccando su questa finestra si vanno ad aprire tutta una serie di appunto opzioni che potete andare a cambiare anche sempre sempre anche qua a vostro piacimento impostazioni della scheda di memoria priorità continua perché appunto lei va continuamente a registrare nel momento che diventa piena va a cancellare i file quelli più vecchi potete andare a formattare la memoria interna vedete che c'è anche l'opzione sovrascrivi video registrazione continua eccetera eccetera tutta appunto una serie di opzioni come detto che potete andare a cambiare a vostro piacimento dopo di che c'è impostazioni videocamera la luminosità anteriore bassa media o alta io bene o male l'ho sempre tenuta la sto tenendo su media perché mi trovo bene con questo impostazioni di registrazione e anche qua vi si apre una serie di varie opzioni sensibilità della registrazione di incidenti in modalità continua questo perché la potete vabbè disabilitare più bassa bassa media o alta poi c'è supervisione notturna 2.0 in modalità parcheggio la potete cambiare modalità continua modalità parcheggio continua più parcheggio diciamo che anche qua come detto prima con l'altra applicazione potete cucirvela su misura ed è questo che l'ho trovata una cosa molto ottima anche perché ognuno di noi potrebbe avere alcune priorità che magari altri non hanno e diciamo che per quelli di voi che sono un po più smanettoni possono andare a cambiare i parametri in base alle loro esigenze dopo di che trovate modalità parcheggio sensibilità impatto in modalità parcheggio anche qua io ho messo media perché questo essendo la dashcam davanti questo è un mio piccolo consiglio soprattutto le porte anteriori quando le andate ad aprire e chiudere se mettete sensibilità alta basta solo davvero una piccola volta che andate a sbattere che questa vi releverà un incidente o comunque un impatto è troppo secondo me quindi mettendo una modalità media di diciamo che è il giusto compromesso ecco sensibilità rilevamento movimento anche qua stesso identico discorso timer di registrazione 48 ore spegnimento per bassa tensione attivo questo perché se voi come in un camper in questione avete collegato magari altre cose alla batteria motore gps antifurto comunque tante altre cose che potete collegarvi siete d'accordo con me che comunque un pochino di assorbimento lo avrete se andate ad collegare anche questa telecamera che ovviamente continuando a registrare il consumo ce l'ha non è eccessivo però comunque ce l'ha potete dire alla dashcam quando la soglia minima viene superata di tensione spegni la telecamera visto che non è una gara una cosa primaria come potrebbe essere il frigoro come potrebbe essere l'antifurto o altre cose che voi avrete sui vostri mezzi gli potete dire quando scende sotto una certa tensione la potete staccare sia per quanto riguarda il 12 volt se il vostro impianto del vostro mezzo funziona 12 volt oppure per quanto riguarda il 24 volt dopodiché c'è anche la tensione di spegnimento nel periodo invernale questo perché i mezzi si sa che i mezzi ricreazionali magari d'inverno vengono utilizzati leggermente meno non per tutti ma per alcuni sì e quindi andando a cliccare andando a flegare vedete novembre dicembre gennaio a vostro piacimento potete andare a spegnere in questi mesi la vostra telecamera se ce l'avete nel vostro rimessaggio nel vostro parcheggio diciamo se non vi serve la potete andare a disconnettere passiamo in impostazioni sicurezza stradale e qua si apre un'altra bella interfaccia dove vi dice videocamere di sicurezza ovviamente attive avviso strada mobile attivo tipo di veicolo qua io ho messo camion anche perché avete berlina suv o camion va benissimo camion che rientra nella categoria appunto dei camper eccetera inizializza adas potete appunto inizializzarlo sistema di avvertimento abbandono corsia qua c'è disabilitato lo potete mettere basso medio o alto velocità ldvs sistema di avvertimento collisione frontale lo potete appunto mettere su medio alto basso eccetera io adesso lo vado a impostare su medio sempre appunto lo stesso sistema di avvertimento collisione frontale a bassa velocità qua adesso è disabilitato ma lo si può mettere appunto anche qua su medio alto eccetera avviso di partenza veicolo frontale qua l'ho messo disabilitato perché vabbè al momento non non ne ho trovato l'utilità tornando indietro piccola cosa ogni volta che voi tornate indietro le modifiche vengono salvate automaticamente passiamo in impostazioni di sistema anche qua lingua italiano volume attivo videocamere di sicurezza 2 adas 2 sistema e altro impostato su 2 il fuso orario in questo caso più 1 ora legale disabilitata unità di velocità indicatore di velocità banda di frequenza e registrazione vocale disabilitata tornando indietro arriviamo sull'ultimo che appunto è impostazione di funzione di rete attiva perché ovviamente se l'andrete a disabilitare il wifi non funzionerà tornando sempre indietro alla pagina iniziale andando su info dashcam trovate qua tutte le informazioni inerente alla t700 quindi nome modello nome dimensione memoria versione firmware eccetera ci spostiamo ora nella parte in basso come potete vedere adesso siamo sull'iconcina a sinistra che è la home della dashcam in mezzo vedete c'è un play con una sorta di filmato è la zona della galleria qua troverete tutte le registrazioni che sono state salvate dalla vostra dashcam file e giorno potete anche selezionarle per giorno o per file come come volete visualizzarle anteriore posteriore e vi segna appunto quelle posteriori e se no tutto vi segna tutte tutte le registrazioni andando a cliccare poi dopo sul singolo file potete aprirlo e potete analizzarlo vederlo e anche salvarlo sul vostro dispositivo tornando invece indietro andiamo sull'ultima funzione che tra l'altro è anche quella principale vista live andando a cliccarci sopra vi farà vedere quello che appunto la dashcam vede al momento adesso siamo parcheggiati andando a cliccare sullo schermo vengono fuori degli altri dettagli in basso vedete zero chilometri all'ora tensione della batteria in questo caso 12,4 12,5 in basso a destra la data e l'ora sono altri diciamo dettagli in più invece in alto a destra ci saranno altre tre iconcine r una inquadratura con un praticamente un disegno e il microfono partendo dalla r cliccandoci sopra andremo a selezionare la retro nel sistema della retro sono state appunto collegate le altre quattro telecamere oltre alla dashcam le due laterali la retro e quella appunto interna come potete vedere andando a selezionarle che potete farlo sia in marcia o comunque anche da fermi vi darà tutta una visuale completa su quello che succede sul retro appunto del vostro veicolo invece andando a cliccare in alto sempre a destra su F vi riporterà praticamente nella visuale frontale ecco della dashcam da t700 invece andando ora a cliccare su quel disegnino che vi dicevo poco fa vi si apre appunto due linee la linea blu al centro del cofano e la linea verde al bordo anteriore del cofano questo perché vi serve quando magari installate o quando vi hanno installato in questo caso appunto i ragazzi di camper tools l'hanno l'hanno fatto vi serve appunto per metterla in linea con il cofano e con tutta la visuale circostante come potete vedere in questo caso siamo perfettamente in linea sia col cofano che con anche lo schermo col vetro e si riesce a vedere praticamente tutto quello che succede davanti invece sull'ultimo simbolino in alto a destra quello del microfono vi abilita o disabilita la registrazione vocale tornando invece indietro torneremo appunto nella schermata principale eccoci arrivati qua alla fine di questo video tutorial o comunque video informativo spero che vi possa servire e lo potete comunque trovare utile anche perché per chi di voi ha deciso di installare tutto questo sistema di video sorveglianza io penso che un minimo di video introduttivo ci possa ci possa stare oltre ai consigli appunto di andrea e di ragazzi di camper tools oggi siamo entrati un attimino un po più nello specifico e abbiamo visto un po più nei dettagli tutto quello che riguarda appunto l'applicazione di tinker ci tengo a fare una sorta di mini recensione di questi mesi di utilizzo in questo impianto di video sorveglianza oltre appunto ad un'installazione super precisa ho trovato molto utile questo 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 sistema anche perché noi facendo molta libera con il nostro mezzo lo lasciamo appunto non dico sperduto però non lo lasciamo un punto magari nei campeggi nelle aree di sosta e andando magari a far la spesa andando magari a visitare dei paesini o comunque andando a visitare i posti dove dove viaggiamo diciamo che all'occorrenza lo possiamo tenere sotto controllo il nostro mezzo senza nessun tipo di problema poi noi avendo comunque anche il cane lo possiamo lasciare su senza problemi è un cane tranquillo non fa danni però nel caso stia male nel caso possa succedere comunque qualsiasi cosa si può tenere sotto controllo appunto a 360 gradi tutto il discorso soprattutto anche magari di siena che di solito uno è un pochino un po più diciamo dubbioso sul fatto del dove ha parcheggiato il proprio mezzo e soprattutto se sei anche all'interno ma magari non vuoi uscire perché magari senti dei rumori strani o qualsiasi cosa diciamo che con questo sistema uno può controllare cosa succede all'esterno senza uscire e nel caso non gli piaccia la situazione può tranquillamente girare le chiavi e partire spostarsi verso un nuovo posto quindi ad oggi lo ritengo un sistema molto molto interessante e molto utile ecco per qualsiasi dubbio o ulteriore informazione non esitate a scrivere qua sotto nei commenti oppure all'email di Campertools dove appunto vi potremmo rispondere senza nessun tipo di problema il video per oggi finisce qua ce ne potranno essere degli altri magari quindi continuate a seguirci sul canale iscrivetevi se appunto ritenete interessanti questi contenuti ed essendo ormai a ridosso delle feste io e i ragazzi di Campertools vi auguriamo a tutti buone feste buon Natale e buon anno ciao a tutti ciao 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 ciao